più di un milione simili anche io santo non le troverò mai tipo cosa inter change in teoria allora dove siamo siamo a villaggio direi di muoverci a perlomeno verso direi di muoverci comunque verso il scala fuori passano l'altro lato c'è l'altro a sinistra a sinistra cazzo vai ah scusa mi qua sotto dove hai sparato? uh sono da porca puttana a est est ovviamente granata eccoli la forse uno l'ho fatto ti devo curare un attimo sono nel campo di grano ragazzi aspetta che ho il cecchino urca sparano anche dalla casa forse? si mi hanno fatto dalla casa cazzo granata tutto a posto chi corre fuori? io sto correndo sono al cancellata blu non ho idea ci siete poi dove siete ok evi siamo separati si siamo separati non so più dove siete quindi ma è attraversato la strada tu come? è attraversato la strada vero? si ho attraversato la strada sono la cancellata blu sul lato nord ce n'è uno dentro la staccionata ok vengo verso di te correndo arrivo da ovest io più a nord ma hanno sparato a te ora? no 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 sono dove c'è la recensione blu eccoti qua sei tu? si sta meglio ok quello ormai ha capito dove siamo occhio che in aure aure 11 c'è un costone bisogna stare attenti che c'è un altro cerchino non c'entra un cazzo ho sentito? si si è qua nella casa nella casa aspetta io mi imboscherei questo esce di qua aspettiamo facciamo un po' di audio un attimo mi sto avvicinando a te ti ha sparato silenziato vero? il jonker si eh si si non ho sentito tanto fuoco cazzo troppo tempo meglio che magari seguiamo la staccionata come prima e facciamo il percorso che stavamo facendo prima ok cosa dici? proviamo di lì? mhm che io ho avventuto da no questa chi è? questa chi è? è uno dei nostri credo davanti a noi sono due entri dentro sono due entri dentro entra dentro entra dentro agli acchi cazzo 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 AK cazzo cazzo dimmi quando posso curarmi cuore ok ok dai Facciamo la parte destra Che abbiamo più ripari E a sinistra c'è uno straccio Ok Non capiamo che si è fatto il massimo No, mi sembri da nord Sì, sì Faccio questa striscia di bosco E poi Taglio verso est E da lì torno verso sud Però dal bosco Ok Quel morto vicino a parte pagna Non è uno del primo È il primo che fa Non mi sento, non li vedo Provo a fare una cazzata abnorme Aspetta qua Non mi abbandonare Level 26 C'è un'arma decente per me In caso Sì Il fatto che c'è una Questa per le munizioni E c'è i BP Sono decenti Il secondo che ti porti qualcosa Sì Ma il server auto Anche se il server con i pinghi privati Un culo Sono ancora lì Sono dentro la stanza Sì Sento sparare da questa parte No, era pensato che S'era una scheggia Sono Li vedo, sono dentro C'era proprio dentro Avvicino alla casa Stavano spostando verso destra Ha finito di curarsi Ma si sono svegliati Stavano facendo il giro delle case Per cercarci Quindi in teoria Verranno da destra Verranno da destra Invece che ormai E' la K Eccoli A destra A destra E' in prato? Vedi? Sì, qua Ne hanno fatto Sul Trattore Trattore È morto Wow Trattore Trattore Grazie a me che mi sono presi i colpi Ma Ma Dio santo Che prima lina Che mi ha passito Ciao Alla Cinghiare caldo Avere la tua task La tua Livello 33 Minchia che fucile Che hai Certo che sei morto Zio Madonna Cosa cazzo Hai messo su Un catafalco Figa Che non finisce più Porca puttana Tena la mano Dalla 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 Duvani La fidanzata Dicis Potrebbe Potrebbe vai eh si no no eh no eh c'ha pure nel cecchino c'è il cecchino sulla roccia eh? eh si eccolo lì c'è la testina ah ma era un scav comunque si si questa è la scavettina no confermati ciò custom? eh si ma no si ma c'è mmm minchia qua cominci a puzzarvi di di lascio qua tutto forse l'ho risolto il mio problema solo che non so più che cazzo farci stare in sto coso perchè c'è sempre l'acqua amare mi dava sì perdere ogni volta l'acqua amare mi fa incazzare perdere scusa? l'acqua quella che vale in sacca che vale 150 non sarà mica quello non c'è scusi di troppo non c'è scusa 그런데 qui E' bella lì E' grande Puoi raccontare la nostra morte La nostra morte al mondo Wow